Con l'MVP della partita, Dario Venitucci, ma che gol hai tirato fuori? Ci ho provato, ci sei riuscito. È andata bene, è stata una giornata positiva, una vittoria che dedichiamo ad Armando, ce l'aspettiamo presto. Credo che oggi non ci sia stata partita, abbiamo fatto una grandissima prestazione sotto tutti i punti di vista, determinati, compatti, concreti. E niente, ci godiamo questa vittoria, ancora non abbiamo fatto niente, mancano ancora due partite. Festeggiamo questi giorni, poi da martedì si pensa a domenica. Ci godiamo soprattutto però questi due gol che hai fatto, l'hai voluto proprio tirare, hai visto il portiere un po' avanti, poi il secondo, hai detto beh, mo glielo rifaccio e è andata bene entrambe le volte. Sì, non è che ho visto il portiere, io ho spostato la palla, ho calciato, è andata bene, è stata una giornata positiva e sono felicissimo perché ce la meritiamo. Adesso appunto ci godiamo la Pasqua, ci avete fatto un bellissimo regalo di Pasqua e poi però appunto alla prossima, l'ultima in casa contro lo Schio, bisogna continuare perché soprattutto adesso che abbiamo fatto tanto, bisogna fare ancora quel piccolissimo passo per festeggiare ancora di più tutti insieme alla fine. Sì, è una vittoria che ci dà tanto anche a livello mentale per affrontare al meglio le prossime due gare. Abbiamo tirato la carretta fino adesso, con tanti sacrifici, quindi ci prepariamo queste due gare importantissime. Abbiamo visto anche il presidente per l'insieme nel Spogliatoio, un ratturarsi con tutti i ragazzi, cosa gli ha detto? Era contento, è normale, lui che poi non può sfogarsi in campo, chi è fuori è ancora più teso, quindi è contento, è stata una bella giornata per tutti, per noi, per i tifosi, ce la godiamo. Grazie e buona Pasqua. Atrettanto, auguri a tutti.